Ciao ragazzi, bentornati. Oggi in questo breve video volevo mostrarvi quali sono le novità di Next13, visto che molte volte mi viene chiesto, ma la domanda è quanto breve fare questo video. Potevo semplicemente raccontarvi queste novità tranquillamente come una persona normale, oppure fare uno di quei video super figli dove in 100 secondi si insegnano le cose. E lì mi sono detto, perché 100? Perché non fare unità di misura tonda e fare 60 secondi e quindi spiegare tutto in un minuto? Quindi proviamo a fare questa cosa, scoprirete solo alla fine se si capisce qualcosa oppure no. Siete pronti? Andiamo. Prima grande novità è routing, perché prima avevamo la cartella pages, in cui ogni file rappresentava una pagina, quindi slash pippo, bastava creare un file di nome pippo. Adesso bisogna creare una cartella di nome pippo e dentro metterci un file che si chiama page. Questo ci permette di avere altri file che hanno delle funzioni, per esempio layout, che ci permette di avere dei layout che wrappano tutta la nostra applicazione e in più si possono innestare layout su diversi livelli. In più posso raggruppare diverse route che hanno magari lo stesso layout, semplicemente creando una cartella con delle parentesi tonde. Ma la grande novità è che i nostri componenti di default sono server component. Posso al loro interno eseguire del codice lato server e posso avere quindi per esempio il fetch dei dati direttamente con dei componenti async. Questo va a sostituire quel bruttissimo get server site props che avevamo prima. Tutto bello in i perché per avere un componente normale, client, usare un use state e tutte le cose di un componente dinamico, devo scrivere qua sopra ogni volta use client perché di default sono server component. Poi ci sono le server action, da un form o in altri modi posso richiamare una funzione che con questo use server viene eseguita direttamente sul server. In più posso avere altri file speciali come l'ohadig che mi gestisce cosa visualizzare durante lo streaming del mio componente oppure error per gestire l'error dei miei vari componenti, sempre qua su diversi livelli. In ottica se ho posto dichiarare il metadata nel mio componente per avere i metadata diversi della mia pagina ma volendo posso averli anche dinamici e generarli ogni volta con questo generate metadata. Abbiamo un nuovo bundle che si chiama turbopack, abbiamo ottimizzazione di immagini, di fonte ma sono sicuro che il tempo è finito quindi ecco qua le novità di Next13. Comunque io non so se ci avete capito qualcosa perché non capivo neanche io quello che dicevo però secondo me i casi sono due. Avete più o meno capito quali sono queste novità quindi non c'è di che, vi ho fatto risparmiare un sacco di tempo. Oppure se non ci avete capito niente o voleste saperne di più e per qualche motivo voleste saperlo da me e vederlo insieme a me vi aspetto sul mio sito juppi.dev perché questa settimana il 13 settembre parte un corso di Next in cui live ogni mercoledì sera su Zoom facciamo lezioni insieme, lezione 1 il setup, lezione 2 facciamo routing eccetera eccetera. Quindi costruiamo nella pratica un e-commerce vedendolo insieme, tutti insieme in live. Oppure potete recuperare poi le registrazioni e vedere tutto il videocorso e avrete accesso anche a Github e a tutto il codice che scriviamo in lezioni quindi non vi preoccupate lo seguite come volete ma Next13 con tutte le sue ultimissime novità lo vediamo con molta molta più calma rispetto a questo video. Quindi se volete vi aspetto lì. Che fatica ragazzi fare questo video perché non ho praticamente preso fiato dall'inizio ma spero che vi sia stato utile al di là della marchettata che ho fatto sul mio corso che però sono molto molto contento di iniziare perché mettiamo le mani veramente veramente in pasta. Quindi come sempre grazie per aver visto il video noi ci vediamo alla prossima.